Ciao a tutti e bentornati in Tessilan News. Quando la bellezza incontra l'ecosostenibilità nasce la magia e quest'oggi infatti parliamo di un filato davvero magico, un elastico bijou ecosostenibile. Immergiamoci quindi nel meraviglioso mondo dei filati per bijou, vale a dire il Lumiflex. Analizziamolo nel dettaglio e vediamone tutti i colori attualmente disponibili. Eccolo qui allora il nostro Lumiflex composto per il 70% latex e 30% PET, quindi poliestere ecosostenibile ed elastane. Per la realizzazione di bijou composto quindi da fili ritorti, eccoli qui li potete ben vedere, dal diametro di 0,4 mm sapientemente integrati all'elastico e proposti in roll da 50 m, eccoli qui proprio come questo. Guardate l'elasticità di questo filato che si adatterà perfettamente a qualsiasi tipologia di bracciale, collana o bijou voi vogliate realizzare. Ma vediamo subito tutte le varianti di colore che sono attualmente presenti in questo Lumiflex. Analizziamo allora le prime quattro varianti di colore. Nel dettaglio lo smeraldo, che è la variante che abbiamo visionato finora, il sabbia, l'acqua e l'argento. Davvero molto luminosi tutti e quattro. Adesso proseguiamo invece con quattro meravigliose lucenti varianti di colore oro. Nel dettaglio abbiamo il beige oro, eccolo qui, il crema, l'oro scuro e l'oro. Concludiamo con tre splendide varianti di colore, vale a dire il rosa antico, eccolo, il rosa e questo meraviglioso e lucentissimo rosso. Colori davvero brillanti e poi oltretutto il Lumiflex porta questo nome proprio perché ha anche un'elasticità senza pari. Perfetta per realizzare delle creazioni e dei bijou che possano adattarsi perfettamente alle vostre forme, ma soprattutto che possano anche durare e stupire. Un mix di composizioni che ovviamente stringono l'occhio anche al rispetto per l'ambiente. Un filato davvero pieno di sorprese con il quale potrete realizzare collane, bracciali, ma anche fasce per capelli o piccoli dettagli da creare sui vostri abbigliamenti. Che sia quindi con perline di vetro, in legno, con charm o nodi, sarete in grado così di creare delle opere d'arte davvero uniche. Con il Lumiflex potrete davvero immergervi in un mondo di minuzie e precisione. Fate quindi brillare la vostra creazione e la vostra immaginazione. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i meravigliosi prodotti Tessiland e ovviamente di iscrivervi sul nostro unico, solo ed ufficiale gruppo Tessiland su Facebook. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!